Senti, Usman, non è grave. Il tipo era strafatto. E ti ha gonfiato per bene. Perché era strafatto. Già. Due cadaveri in due giorni sballano un po' la nostra media. Chiudete il caso alla svelta con dolcezza e il tratto. Ah, meglio di così. Siamo noi. Sarà carino rifare squadra insieme. François, io parto, tu resti. Eravamo una bella coppia, una vera squadra. Un duo. Non puoi andare senza di me. In provincia non sai muoverti. Hai bisogno di un uomo affidabile. Alice, qui è piacere? A Parigi ci diamo due baci. Qui no. Per neutralizzare questo gruppo di criminali, voi tre dovrete lavorare insieme. Sono stanco, andiamo? Hai rotto. Degli attentati coordinati. È un'armata. Siete solo due piccoli funzionari parigini senza valore. Mettici il suono. Com'è che dicevi? Una vera squadra. Un vero duo. Non voglio morire. Non così, non con te. Siete solo due piccoli funzionari pari. Siete solo due piccoli funzionari pari. Ciao. 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 Grazie a tutti.